Istituto di istruzione secondaria superiore Archimede Taranto, il futuro del mondo è nelle mani dei giovani. Due settori, settore professionale e settore tecnico. Settore professionale con diversi indirizzi. Indirizzo, manutenzione ed assistenza tecnica, opzione, apparati e impianti e servizi tecnici, industriali e civili. Opzione, manutenzione di mezzi di trasporto. Indirizzo, industria e artigianato per il Made in Italy, opzione, produzioni tessili sartoriali, opzione, industria. Ecco le novità del settore professionale. Indirizzo, gestione delle acque e risanamento ambientale. Indirizzo, pesca commerciale e produzioni ittiche. Settore tecnico, indirizzo trasporti e logistica ex nautico. Indirizzo informatico, indirizzo elettronico. Istituto di istruzione secondaria superiore Archimede. Taranto, sede centrale, via Lago Trasimeno 10. Taranto, sede Costa, via Lago di Misurina 2. Talsano, sede Falanto, via Brunelleschi 20. Open day nelle seguenti domenze. 2 e 16 dicembre, 13, 20 e 27 gennaio, dalle ore 9 alle 12. 13 dicembre e 17 gennaio, dalle ore 16 e 30 alle 18 e 30. Colora il tuo futuro con la scelta giusta. Scegli Archimede. Colora il tuo futuro con la scelta giusta. Grazie.